Tgweb di oggi venerdì 27 luglio, iniziamo con l'economia, effetto Draghi, spread ancora in ribasso, scende sotto i 460 punti. L'effetto Draghi continua anche oggi, dopo le rassicurazioni della BCE, che si è detta disposta a qualsiasi cosa pur di salvare l'euro, lo spread continua a scendere e raggiunge i 459 punti base. Il rendimento del decennale è sotto il 6%, esattamente al 5,92. Il differenziale tra bonus spagnoli e bund tedeschi segna invece 541 punti, con un rendimento del 6,7. Positiva anche Piazza Affari, che in apertura di giornata guadagna lo 0,75 a 13,309 punti e il FITSE All Share lo 0,55 a 14,329. Euron in rialzo più 1,23 sul dollaro. In apertura di giornata l'euro in rialzo sui mercati valutari. La moneta unica sfiora quota 1,23 contro il dollaro 1,2285 ieri sera alla chiusura di Wall Street e viene scambiato a 96,17 ien. Notizia che giunge dalla Spagna. Vigili del fuoco riescono a domare l'incendio in Catalogna. Dopo quattro giorni di intenso lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio che ha devastato la Catalogna. Il quale incendio ha causato la morte di quattro persone e la distruzione di 14.000 ettari di vegetazione. Le autorità catalane hanno attribuito l'origine del fuoco a mozziconi di sigarette. E siamo alla cronaca. Un'intera famiglia di furbetti ciechi in tasca indennità di accompagnamento dal 1982. 800 euro al mese che sommati negli anni fanno lievitare a più di mezzo milione di euro il danno procurato all'Inps. Lo comunica in una nota la Guardia di Torino impegnata nell'azione di contrasto di sprechi ed illegalità ai danni del bilancio dello Stato. Anche a febbraio, continua la nota, è stata individuata una falsa cieca a Pinerolo e sei altri casi accertati grazie alle indagini coordinate dalla locale procura estese anche nel Lazio. In un altro caso le indagini sono scattate sempre a Torino dopo la segnalazione di un cittadino al 117, il numero di pubblica utilità della Guardia di Finanza. La persona denunciata, oltre alla cecità, simulava anche un'infermità che la costringeva sulla carrozzella. Infine, conclude la nota, un ultimo caso riguarda un falso cieco residente a Torino di origine siciliane che è riuscito a mettere in tasca 80.000 euro nell'arco di 10 anni. Sempre cronaca, ILVA, confermato sciopero ad oltranza. Clini, oggi il caso in CDM. Si è svolta questa mattina all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto l'assemblea dei lavoratori rimasti ormai senza un impiego. Durante la riunione, gli operai hanno confermato l'intenzione di proseguire con lo sciopero ad oltranza. I lavoratori in protesta contro il provvedimento di sequestro dell'ILVA affluiranno verso la città e bloccheranno il ponte girevole come è avvenuto ieri. Verrà interrotta inoltre per diverse ore anche la statale che da Taranto porta a San Giorgio Ionico e Lecce. Intanto il ministro Clini, intervistato da Radio Anch'io, ha confermato che il caso ILVA sarà oggetto del CDM oggi e all'ordine del giorno ha ribadito. Samuel Dottor Lauro Crispino, segretario e responsabile della Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche. Qui con questo gazebo in piazza Colonna, il motivo di questa manifestazione? Allora, questa manifestazione discende dal programma di spendi reviure presentato dal governo Monte. L'iniziativa odierna è quella di sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso la diffusione di manifesti e controproposti a quella che è la manovra governativa affinché la stessa opinione pubblica possa essere compatta nel lottare a favore anche dei dipendenti pubblici perché riteniamo che i dipendenti pubblici sono stati danneggiati dalle politiche del precedente governo e in particolare dalle politiche dell'ex ministro Brunetta che li appellava quali fannulloni e quant'altro. Così non è. La pubblica amministrazione deve essere intesa come una risorsa, una risorsa a servizio dei cittadini e per i cittadini, per cui noi chiediamo interventi di razionalizzazione, sì, di miglioramento dei servizi a favore del popolo e della cittadinanza tutta. E questo è il nostro modo per informare l'opinione pubblica.